Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale voglio parlarvi di un tema, cioè il tema del mirino. Mirino elettronico, irinottico, lay view, in sostanza i mirini continueranno ad esistere sulle nostre fotocamere, ad essere installati. Qualcuno di voi dirà, ma sicuramente sì, ma figurati Damiano, guarda che il mirino non scomparirà mai. Io non sono così convinto, o quantomeno non penso che sia un tema così scontato. E soprattutto sto notando sia in uso amatoriale, sia per un uso professionale, che tante persone ormai scattano utilizzando il lay view piuttosto che il mirino. Cioè il mirino è diventato un elemento secondario in fase di ripresa rispetto all'ay view. Allora proviamo a ragionarci un pochino sopra e poi come sempre ragazzi io voglio sapere la vostra opinione, perché le riflessioni fotografiche servono per ragionare un attimino, per interrogarci. Possono essere degli spunti anche per i costruttori, io so per certo che diversi importatori e produttori insomma comunque leggono i commenti dei vari youtuber, compreso i nostri e del nostro canale, quindi chissà può essere comunque un feedback interessante. Allora dicevo io non credo che sia così scontato questo tema. Se facciamo una fotografia della situazione attuale, cosa abbiamo? Partiamo dalla fascia alta di utenza, quindi i fotografi professionisti utilizzano fotocamera ovviamente di alto livello con dei mirini ottici o elettronici assurdamente di qualità. Abbiamo dei sistemi con dei mirini elettronici veramente straordinari, con quelli presenti ad esempio sull'S1, sull'Alcone Laica eccetera, ma anche sulle recenti Canon, sull'R5 e anche ad esempio sulla Sony A7R4 che ho avuto modo di provare e devo dire che insomma ha un ottimo mirino. Quindi mirini elettronici di alta qualità per fotocamere professionali e evidentemente il professionista sembra ancora preferire il mirino rispetto alle view, ma non è proprio così detto, ci arrivo fra poco. Man mano che si scende i costruttori vanno a utilizzare dei mirini elettronici o ottici di qualità inferiore, ma soprattutto il fattore di ingrandimento è in alcuni casi limitato. E' evidente che i costruttori hanno ritenuto che il sistema principale per inquadrare fosse il live view piuttosto che il mirino da utilizzare come emergenza in caso ad esempio di forte illuminazione eccetera. C'è da dire anche ragazzi che il mirino è un bisogno che sentono soprattutto le nostre generazioni e le generazioni quelle precedenti alle nostre, insomma quantomeno alla mia, io sono del 75 quindi insomma ormai comincio a avere anch'io i miei anni. Per me il mirino è un bisogno che sinceramente sento, ma se pensiamo alle generazioni nate con, insomma generazioni intorno ai 20 anni e che utilizzano costantemente gli smartphone, per loro il sistema primario con cui inquadrare e fotografare è il display, perché sono abituati a vedere il mondo attraverso un display. E il mirino è un qualcosa di più. Non a caso ragazzi molte fotocamere che fungono un po' da bridge, insomma da ponte per portare dentro utenti smartphone verso utenti fotocamere, reflex o soprattutto mirrorless, fanno del mirino del display un fattore particolarmente importante. Vedi ad esempio l'XT200, prima che mi viene in mente di Fuji con un display molto grande, insomma proprio per tutto molto touch, proprio per fare rivivere quel tipo di esperienza ai potenziali clienti di età molto giovane, quindi insomma abituati allo smartphone. Vedo paradossalmente mia figlia a 8 anni, per lei quando io gli do la macchina fotografica non gli viene neanche in mente che può mettere l'occhio nel mirino, cioè utilizza semplicemente il display, stessa cosa mia nipote che è più grande, utilizzano semplicemente il display. Quindi io ritengo che non sia così scontato, cioè il nostro bisogno di utilizzare il mirino nasce da alcuni fattori pratici che adesso vi dico, ma anche proprio da una grande abitudine e sono convinto che in futuro i costruttori cercheranno un po' di toglierlo il mirino. Perché cercheranno di toglierlo? Allora, prima di tutto hanno già cercato di farlo con l'avvento delle prime mirrorless. Se vi ricorderete le prime mirrorless, prendiamo ad esempio la penne, le P1, insomma la P1, mi ricordo come si chiama la prima serie, comunque quella insomma bellissima, tutta in metallo, una bella finitura, aveva il mirino, addirittura forse la prima neanche senza mirino, non so non ricordo, comunque il mirino al massimo era esterno e potevi inserirlo. Poi cosa è successo? Che hanno visto, soprattutto in alcuni mercati, il mercato americano ed europeo, che evidentemente è un pochino più tradizionalista rispetto a quello giapponese, hanno dovuto inserire di nuovo il mirino integrato nel corpo macchina. E ancora oggi fotocamere senza mirino nel mercato europeo e americano fanno fatica a venderle. Cosa diversa nel mercato giapponese dove invece vengono venduti dei modelli senza mirino, perché evidentemente la popolazione l'ha già accettato come tipo di condizione, insomma di scatto, insomma di tipo di design, insomma di utilizzo. Allora proviamo a fare un'analisi veloce tra mirino ottico, mirino elettronico, mirino elettronico ottico contro l'AVU. Allora mirino ottico e elettronico, ci sono qui due scuole di pensiero, chi non può fare a meno del mirino ottico, chi ormai non può più fare a meno del mirino elettronico. Io credo che entrambi i mirini siano validi, dipende soprattutto dalla qualità del mirino, cioè preferisco un ottimo mirino elettronico rispetto a un pessimo mirino ottico, così come un ottimo mirino ottico sarà ovviamente da preferire rispetto a un mediocre mirino elettronico. Cioè in sostanza la qualità del mirino è l'elemento davvero determinante. E' anche vero però che il mirino elettronico ha dei plus che il mirino ottico non ha e viceversa. Pensiamo ad esempio a un mirino ottico, intanto le immagini sono più, la ripresa è più naturale, cioè tu vedi con i tuoi occhi, quindi insomma tutto ciò che vedi è un pochino più naturale. Ovviamente non hai problemi di luminosità, cioè i mirini elettronici in condizione di forte luce, soprattutto laterale, hai problemi di visione, chi più chi meno, insomma dipende ovviamente dal modello, per cui il mirino ottico non ce l'hai. E poi ovviamente il mirino ottico è completamente fluido perché è la nostra visione. Il mirino elettronico però ha anche il grosso vantaggio di avere un controllo sull'esposizione e sul contrasto, nonché sul bilanciamento del bianco, che il mirino ottico è impossibile. Cioè saresti costretto a fare la foto e poi rivederla con il display. Perdendo tempo, insomma sapete benissimo, l'avete sicuramente vissuta o la vivete ancora oggi questa tipo di esperienza. Per cui io credo che entrambi i mirini hanno dei pro e dei contro. Personalmente diciamo che l'ideale sarebbe la soluzione X-Pro3, X-Pro2, insomma la soluzione di Fuji, dove c'è o dell'X100V, per fare un esempio, dove tu hai entrambe le visioni. Però purtroppo non è applicabile dal punto di vista tecnico e poi comporterebbe dei costi veramente importanti. Quindi scordiamoci questa possibilità. Abbiamo poi l'A-View contro mirino ottico barra elettronico. Allora io vi dicevo prima, oltre alle nuove generazioni che vedo che utilizzano prevalentemente l'A-View e proprio come ultima soluzione il mirino, quando lo utilizzano, mi sto accorgendo che anche molti professionisti utilizzano la fotocamera guardando dal mirino. Ora, una fotocamera come l'S1 guardando dal display, scusate, una fotocamera come l'S1 che ha un peso un po' importante, magari si fa un pochino fatica, però tanti fotografi vedo che utilizzano tanto l'A-View. Ora, l'A-View, devo dire che io, è stato uno dei fattori per il quale io scelsi ad esempio l'Inpus. Torniamo indietro, insomma la mia prima digitale fu uno, l'Inpus One E330, che proprio la scelsi perché aveva la possibilità di inquadrare dall'A-View come se fosse una compatta. Io l'ho sempre ritenuto una cosa molto comoda. Mi ricordo una volta che andai a una presentazione della Canon 5D Mark II, mi sembra, e presentarono all'epoca anche il 200mm f2. Mi ricordo che, insomma, c'erano dei fotografi per fare delle foto, no? Senti, ci sono le modelle, eccetera, tutti sdraiati per terra nel mirino, nonostante ci fosse l'A-View, però il mirino, se il display, se non è orientabile, è davvero molto scomodo. Insomma, molti fotografi proprio sdraiati per terra, che si sentivano fighi, io sinceramente li vedevo un po', lo capisco perché l'avevo vissuto anch'io con le reflex analogiche, però avendo all'epoca un Olympus, penso che ci fosse le tre, adesso sto ripescando nella memoria, col display completamente orientabile, così come oggi è sulla Panasonic S5, quindi io potevo inquadrare praticamente così dal basso con una comodità assurda. E devo dire che quindi l'A-View io l'ho sempre apprezzato. D'altronde, ragazzi, l'A-View, ok, elettronico è stato un concetto che è venuto con alcune reflex e poi con, ovviamente, le mirrorless, ma il concetto della visione nel pozzetto di certo non è una cosa che si sono inventate le fotocamere digitali, insomma, in analogico si è sempre fotografato col pozzetto, prendiamo la Rolleiflex, la lastima delle più famose, insomma, è sempre stato un tipo di approccio molto apprezzato dai fotografi, anche lì con i pro e con i contro. Certo è, io già lo so che qualcuno di voi dirà, eh, ma non può mai protagonare la visione che hai con un Assemblad, non so, una 500, con un display elettronico. È vero, cioè, la visione a pozzetto con un Assemblad ha una tridimensionalità, un'inquadratura, insomma, ragazzi, è tutta un'altra cosa. È anche vero, però, che con l'A-View tu puoi, ancora una volta, regolare tutti i parametri che vuoi e hai una visione praticamente finita della foto. puoi tranquillamente anche scattare in JPEG, se non vuoi passare del tempo a un post-produzione, cose che altrimenti non potresti fare. L'A-View è comodo, ovviamente, soprattutto se orientabile, per fotografare triangolazioni diverse, eccetera, eccetera, e anche per essere libero. Quindi io posso fotografare e al tempo stesso guardare intorno, un po' come nel banco ottico, appunto, nelle fotocamere a pozzetto. Quindi, ad esempio, sto facendo della ritrattistica, posso ancora mantenere il viso libero e quindi avere un'interazione con il soggetto, che non è una cosa così scontata. Il L-A-View, purtroppo, ha, i L-A-View almeno attuali, chi più chi meno, hanno il problema della visione sotto il sole. Cioè, c'è riflesso, non vedi molto bene, e quindi le composizioni spesso sono un po' approssimate. Io mi sono accorto, devo dire con molta franchezza, che quando scatto con un mirino ottico di qualità, soprattutto quelli analogici, che sono ancora su un altro livello, rispetto a un mirino elettronico di qualità o meno, la composizione non è mai così curata, cioè non riesco ad avere mai quella percezione proprio della foto, che ho appunto con un mirino ottico di altissima qualità. E così con il L-A-View, mi accorgo che sempre quando faccio i servizi, a volte ho delle composizioni non perfette, perché magari ai bordi, eccetera, non vedevo bene, cioè c'è una forte illuminazione, quindi non vedi bene. Per cui il L-A-View, insomma, è utile, ma secondo me non è, come dire, non è pratico in tutte le condizioni. Sicuramente il mirino, a mio parere, ha anche, oltre a proteggerti dal sole, anche un altro grande vantaggio, che in alcuni casi può essere utile, cioè quello di isolarti un po' dall'ambiente, quindi di essere più concentrato su quello che stai fotografando. Insomma, io credo che dipenda molto dal tipo di fotografo che si è, da cosa si fotografa, perché ci sono alcuni sport, alcuni sport, alcuni generi fotografici, tipo quello sportiva, o un paesaggio dove il paesaggio di L-A-View è fantastico, soprattutto se orientabile, perché tu, insomma, puoi tranquillamente, sei treppiede, sei comodo, perché non hai grossi problemi. Le fotografie di matrimonio, credo che siano importanti entrambe, sia il L-A-View che il mirino, quindi dipende, insomma, da circostanza a circostanza. Però, ripeto, ragazzi, e chiudo questa riflessione fotografica, di non dare per scontato il fatto che i mirini rimarranno sempre sulle nostre fotocamere. Guardate che i produttori, ripeto, ci hanno già provato, ogni tanto ci riprovano, buttano lì la cosa, perché, ragazzi, fare un mirino ottico, ancor più, ma anche elettronico, ha dei costi e anche delle limitazioni, termini di economia, componentistica, spazi, eccetera, e quindi i costruttori questi aspetti vorrebbero toglierli. Così come scomparirà l'otturatore a tendina, insomma, l'otturatore nel corpo macchina, saranno solamente otturatori elettronici quando la tecnologia e i sensori avranno una velocità di rettura tale per cui è praticamente inutile insomma, avere l'otturatore meccanico. Per cui, se ci sarà solo l'otturatore elettronico e ci saranno probabilmente fotocamera solamente con il display. Questo, secondo me, è quello che succederà, sempre in virtù di un'ottimizzazione dei costi, ma anche per rendere questo divario tra smartphone, tra approccio smartphone e tecnologie smartphone e approccio fotografico il più, come dire, sovrapponibile possibile, ok? Questa è un po' la mia visione, sono quasi certo che andrà a finire così, però voglio sapere la vostra opinione. Intanto, sarà così, non sarà così, e soprattutto tra l'iView e il mirino quale preferite e tra il mirino ottico e elettronico quale preferite. Sono curioso di sapere la vostra opinione. Ciao ragazzi!